Cari amiche e cari amici, un caloroso saluto e bentornati al nostro consueto appuntamento. Con buon successo prosegue al Cinema Don Bosco della Spezia la visione di Io sono qui, delicatissima eppure qua è l'ammordace commedia di Eric Lartigot, un regista che non finisce mai di sorprenderci per i continui improvvisi cambi di registro, di tono e di genere. Infatti, da una pellicola di evidente ispirazione antonioniana quale fu scatti rubati, fino al più recente e fortunato nella sua commistione di sorriso e commozione la famiglia Belier, una volta di più ritornano gli elementi cari al regista, non di meno, come prima accennai, la sua capacità di improvvisare e di sorprendere le aspettative dello spettatore. Nulla da aggiungere rispetto alla trama del film che già esplorammo, se ben ricordate, nella puntata precedente. Stefanna, uomo di mezz'età, tutto quello che si può desiderare dalla vita, una moglie, due figli, un'attività ben avviata, eppure non è ancora soddisfatto. La Corea, anzi la Corea del Sud, ha un profumo inebriante, seducente, in questo caso alle fattezze di Su, una ragazza conosciuta da Stefanna casualmente su una piattaforma social. resterà attaccato alla sua quotidianità, alle sue piccole gioie nel Belgio rurale, oppure l'Oriente avrà un profumo, un richiamo troppo forte, irresistibile. Questo lo scoprirete solo nel corso della visione. In aggiunta, a quanto già esplorammo, può essere d'aiuto e di piacere allo spettatore conoscere quelle che sono le ragioni che portarono il regista ad abbracciare questa storia. In particolar modo si può ripercorrere insieme l'intervista che il cineasta francese rilasciò alla rivista digitale Cameralook.it. Nelle sue prime sequenze, Io sono qui sembra promettere una commedia romantica. Successivamente il film assume gradualmente l'aspetto di una storia introspettiva, dalla risonanza molto contemporanea. Come è nata questa idea? Il regista risponde. L'impulso iniziale è stato innescato dal produttore Eduard Veil che mi ha riportato un fatto di cronaca. Un uomo svedese decide di incontrare una donna cinese che ha conosciuto su internet e parte per la Cina col desiderio di sposarla. Ma la ragazza non si presenta all'aeroporto e non darà cegni di risposta. L'uomo indice uno sciopero della fame. Dopo una settimana viene rimpatriato e ricoverato all'ospedale. All'epoca dei fatti avevamo appena iniziato a discutere insieme ad Alain Shabba, l'attore protagonista, il personaggio di Stefana. E inoltre quando arrivamo in Corea l'ambasciata ci disse che quattro volte al mese diversi uomini dovevano essere rimpatriati dopo essere andati a incontrare donne coreane che non erano mai stati in grado di conoscere. Ho trovato affascinante questa storia e questo viaggio perché ci dicono qualche cosa di importante sulla possibile e assurda virtualità verso la quale i social networks possono condurre. È la porta aperta alla fantasia, alla possibilità di un amore eccessivamente idealizzato. Ognuno può facilmente inventare la propria storia. Sono stato preso dall'idea di cercare di capire il meccanismo che guida una persona in cerca dell'amore e dell'assoluto e del suo corollario. Che cosa accade quando la fantasia viene tramutata in realtà concreta? Questa è la suggestione portante di Io sono qui e avrete modo di scoprirne un po' di più al prezzo di un biglietto d'ingresso. Io sono qui resterà in cartellone fino a mercoledì 27 ottobre con i seguenti orari Feriali 17.30, 19.15 e 21.15 Sabato e domenica 15.30, 17.30, 19.15, 21.15 Il giorno dopo, ossia giovedì 28 ottobre debutterà invece in palinsesto l'attesissimo Freaks Out di Gabriele Mainetti sorta di variante teratologica dell'armata Brancaleone anzi dei Picari di Mario Monicelli con una compagnia di teatranti girovaghi tutti fenomeni viventi i quali dovranno districarsi fra mille peripezie e avventure nell'Italia del Biennio 43-45 A voi un piccolo estratto di Io sono qui vi aspettiamo in sala e ci ritroviamo a poco in studio con l'amico Paolo Rissicini che ci prenderà per mano e ci farà esplorare la programmazione del Cinema Italia di Sarzana Davide Davide Oh Cosa? Papà? Esatto Ascolta Questo giovedì devi scegliere la balaustra per la terrazza meglio qualcosa di sobrio evitiamo i colonnati e poi devi prendere visione del nuovo menu lo trovi sul computer di Yuvo basta leggere questo è quanto ce la puoi fare? Mi ascolti o pensi ad altro? No, ascolto ti ascolto Bravo Però non ho capito quello che hai detto Ti ho spiegato cosa fare al ristorante Scusa, perché? Dove vai? In Corea vedere i ciliegi i ciliegi? Esatto stanno per fiorire la stagione è questa come saprai perciò starò via per un po' hai il ristorante in mano ti è chiaro? Susanna è preziosa ma ci sarai tu al comando E con il mio lavoro a Bordeaux come faccio? Dirai non sai nemmeno se te lo daranno un lavoro e poi io ti ho fatto favori per vent'anni stavolta me ne fai uno tu ok? Senti papà Papà cosa? Che cosa? Parti dall'oggi al domani Basi Il reparto antitropico della polizia di Parigi indaga con zelo sulle partite di hashish che arrivano nella capitale e per farlo si affida alla traduttrice Passiance abile a intercettare le comunicazioni in arabo dei trafficanti cresciuta al giro per il mondo grazie alla madre che ora è malata in una casa di cura Passiance soffre la noia quando un giorno riconosce la voce della badante della madre si adopera in maniera istintiva e casuale per aiutare il figlio di lei la partita di droga da lei da lui trasportata svanisce all'improvviso sotto il naso di Filippo che è un investigatore di polizia che ha una relazione con Passiance e l'insospettabile traduttrice la recupera decidendo di rimettersi in affari da questa idea che sembra essere uscita da un Breaking Bad parigino in un'ambientazione appunto urbana metropolitana che sembra quasi chiamare per temi la New York degli anni 70 a livello di cinematografia della nuova Hollywood ecco però il tono è completamente diverso molto più scanzonato molto più leggero molto più comico ed è appunto la struttura della storia dei personaggi che sono delle macchiette semplicemente delle macchiette comiche fanno intravedere che in realtà il film forse è stato pensato in maniera ancora più leggera e comica di quanto non sia grazie a una bravissima Isabelle Huppert Jean-Paul Salomé prende la Huppert e in realtà rende il suo personaggio l'unico veramente a tutto tondo l'unico personaggio tridimensionale mentre gli altri sono appunto delle macchiette parodistiche comiche la Huppert regala alla regina di Parigi così recita il sottotitolo del film un personaggio che solo attraverso un'alzata del sopracciglio restituisce il mistero della sua figura o attraverso un sorriso ambiguo restituisce la sua ineffabilità attraverso lo scarto che c'è tra quello che noi sappiamo ovvero che lei sta diventando si sta imponendo nel giro di traffico di droghe leggere nella Parigi e quello che i buoni quelli che sarebbero i buoni in teoria ovvero l'investigatore di polizia Philippe che è anche il suo amante in questo scarto nascono anche le migliori gag comiche un film che celebra ancora una volta la grande ecletticità di una delle attrige più importanti del ventunesimo secolo il carico partirà domani sera dal Marocco e arriverà la sera del giorno dopo a Parigi deve essere roba buona dicono di poterci guadagnare 5.000 euro al chilo ecco cosa mi serve se prendete più di 50 kg vi faccio uno sconto c'è una donna che spaccia tonnellate di roba a Parigi e non riusciamo a beccarla attenzione è pesante effettivamente non dimenticate al telefono sempre e solo in arabo domani alle 19 nello stesso posto ma dov'è questo stesso posto? mio caro dovete muovervi più in fretta oh ma così è sfruttamento hai mai visto o ho sentito parlare di una donna marocchina chiamata la padrina mi sento bello potrebbe essere davvero chiunque ti aspetta un bel lavoro non sarà facile beccare la padrina nei filmati sembravi tu stessa taglia stessa corporatura non so se è per solidarietà femminile ma io la trovo piuttosto simpatica questa padrina non so se è per la padrina